No, ho fatto la intro sbagliata Vabbè, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo qui su Minecraft a vedere l'evento del Big Ladro Ok ragazzi, sì, è passato un po' di tempo ma lo dobbiamo analizzare bene Perché il Big Ladro è ancora in circolazione Dopo aver distrutto la casa di Mattiz e la casa di Steffa e Fede A chi punterà? Beh ragazzi, in realtà Steffa e Fede si sa dove sono Io non lo dico in questo video per non far più molti spoiler Però nei prossimi video vi dirò dove sono Iniziamo subito Qua si scrive, benvenuti in un primo evento Significa che non sarà il suo primo evento perché sarà uno tra i tanti eventi che farà Tanti giocatori non c'è ragazzi No raga Sono felice di vedermi se ne vengono un po' Adesso Cos'è stato? Io sapevo che esplodeva qualcosa Che è stato? Cos'era il fucile? Uno tra di voi Allora chi? È qua ragazzi Secondo me Io so È stato sospetto anche alla fine Ma è stato sospetto anche adesso Ragazzi Se volete recuperare È spawnato il Vider ragazzi Il Vider Una cosa che non farebbero tutti Sicuramente Non Marci No E poi si dovrebbe capire se sta puntando Marci o Steffede perché Mattiz Non ha molto senso in tutto questo Non c'era un evento Lui non si docca quasi mai a Minecraft Infatti Mattiz non c'entra niente Forse è perché Mattiz Ha distrutto quasi tutte le costruzioni Fatte da Marci Quindi Inizialmente sono dei Stavo provocando tutti gli youtuber Ragazzi La mia otteria è Sbrizzer Perché Sbrizzer? Tutto il tempo accadono cose Accadono diciamo Misteri Anomalie Se possiamo dire Guardate Arriva qua Ghiaccio Vider Creeper Spawnano tutti Intanto hanno donato Bravi Spawnano tutti Non spawnano solo una persona Quindi Significa che Che È casuale Probabilmente E guardate Alla fine Quando arriva Chissà chi Come si chiama Sbrizzer Nel server Quando tutto È finito Aspettate Se magari Becco Il minutaggio Ok E in realtà È già entrato Da un po' No ragazzi È qua È entrato Oh No ragazzi Dai Vabbè Comunque è entrato Tornano qua Tornano qua E ci sono dei Wither ragazzi Nel mentre Dovrebbe essere Tipo Arrivato Non mi ricordo Mai il suo nome Sbrizzer Che appunto Adesso Se vediamo È entrato Adesso È entrato Prima Xiao È guerra Si sono colpiti Le squadre Perché Ti va Wither Qua Ecco perché Perché qua Si sono spostati Perché Sbrizzer Nel mentre Perché i Wither Li distraevano Andavano Verso casa Ha messo Delle TNT In casa Di Marci Guardate Adesso Adesso qua Vincono Contro Raga Che accade Come se nulla Fosse successo E subito dopo Il biglato Scrive Fine A presto Secondo me È proprio Sbrizzer Il suo spettato Nel numero Secondo Sospettato Kennel Terzo Sospettato Kenoya O Buddy Però Non così tanto Mi soffermerai Su Sbrizzer Bene ragazzi Questo video Finisce qui Lasciate like Al video Dobbiamo arrivare Io non chiedo like Va bene così Scegliete voi Quanti like Arrivare Iscrivetevi Al canale Tutti dobbiamo arrivare A 200 iscritti Ma questa cosa La voglio davvero Siamo a 185 iscritti O di più Vabbè Comunque Arriveremo semplicemente A 200 iscritti Con altri 15 iscritti Ragazzi E siamo bene Perché farò uno Iniziamo bene Perché farò uno speciale Quindi Ciao